Si torna a parlare di San Filippo del Mela, lì dove la centrale elettrica A2A rischia di diventare un termovalorizzatore. Diverse sono state finora le manifestazioni di protesta alle quali hanno preso parte non solo i cittadini della valle, ma tutti coloro che vedono nell'inceneritore una bomba ecologica e sanitaria. Mercoledì una nuova protesta che avrà come luogo di incontro la sovrintendenza di Messina. Così come ci tengono a spiegare i comitati e l'associazione della valle del Mela contro l'inceneritore, la scelta del luogo non è affatto casuale. La palla è infatti al momento nelle mani del sovrintendente Orazio Micali, al quale è stato chiesto di esprimere un nuovo parere sull'inceneritore, un parere che potrebbe essere determinante per la sorte di questo tanto discusso impianto. La realizzazione del termovalorizzatore, per la quale ricordiamo nei giorni scorsi il governo Gentiloni ha dato l'ok per un finanziamento da 180 milioni di euro, rappresenterebbe una grave sconfitta per tutti coloro che fino a questo momento hanno manifestato il proprio dissenso. Nell'area interessata dall'impianto non è consentito realizzare impianti per il trattamento dei rifiuti. In parole povere, il piano paesaggistico dell'ambito 9, ormai approvato da quasi un anno, vieta categoricamente la realizzazione dell'inceneritore. Ai sensi del codice dei beni culturali le previsioni del piano paesaggistico sono inderogabili, neanche una decisione del Consiglio dei Ministri potrebbe bypassarle e prevalgono su quelle del PRG. Quindi nessuna concessione di lizia potrebbe essere rilasciata finché è vingente il piano paesaggistico. Il parere della sovrintendenza è quindi determinante. Se questa dovesse affermare la compatibilità degli inceneritori con il piano paesaggistico, l'impianto avrebbe più possibilità di ottenere una concessione di lizia abusiva. Viceversa, se la sovrintendenza dovesse dare parere negativo, questo diventerebbe vincolante anche per l'ufficio tecnico del Comune di San Filippo del Mela, nonostante l'eventuale rilascio della via da parte del Consiglio dei Ministri. Il movimento contro l'inceneritore del Mela si riunirà per manifestare mercoledì 13 alle 15.30 davanti la sovrintendenza di Messina, Viale Boccetta, numero 38.